Hola! Nuova challenge, ormai ci siamo imparati. Ci sono solo challenge. Ma è tutta questa qui, cioè, è proprio, direi, inedita quasi. Sì, ce l'ho sempre inventata, no, certo. Sì, si può dire di sì. Allora, non conosciamo altri che l'avvieno fatta. No, magari l'hanno fatta perché touch my body, qualcuno l'ha fatta. Eh sì, qualcuno sì. In cosa consiste questa sfida che come vedete dal titolo qua? Dovrebbe essere qua. No, qua dovrebbe essere qua. Lì? Qua. Sì, la vedo, la leggo, la leggo, la leggo, sì, sì. Challenge. Decora il piatto. Esatto. In cosa consiste? Abbiamo un piatto con all'interno una fetta di prosciutto. Yes. Della rucola. Proprio la rucola hai preso, cioè ti fa schifo. Sì, perché sai che io sono... Poi, due pomodorini. Del formaggio. E dei pezzolli di peperone. Esatto, ammonto. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo decorare il piatto nel modo più artistico che riusciamo a fare utilizzando questi ingredienti del ketchup e un coltello. Esatto. Chi lo fa meglio lo giudicherete voi. Sicuramente noi daremo del trash anche qua perché ce l'abbiamo intrinseco. Ovvio. Quindi abbassiamo la camera, non vedrete la nostra... No, non vedremo la nostra fatta. Ma effettivamente saranno un po' depressi. Vabbè. Comunque... Vai. Ok. Ok. Ovviamente noi siamo... Siamo un po' storti, vabbè, lo stesso. Ovviamente noi siamo onesti, quindi non guarderemo l'uno e il piatto dell'altro. Anche perché siamo molto distanti, no? Sì, sì, beh sì. Io non riesco a vederti. Sei troppo lontano. Allora, via la sfida. Vai. 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 Ragazzi, guardate che merdata sta facendo il Dani. Il pezzone. Mentre io, come potete vedere, ora ve lo faccio vedere meglio. Ecco. Io ho fatto questo, che è un decoro di ketchup e rucola su un letto di cazzetti. Dentro, vedete, c'è il peperone, prosciutto, la double cappella e anche la sburricchiata di formaggio. Questo è il mio. E ora quello di Dani. Invece io ho fatto questo, che è proprio il tipico del ristorante di quelli no. Ma sai che carino il tuo. Te l'ho detto, certo che è bellino. Allora, abbiamo... Allora, abbiamo... Escrivilo. Abbiamo... Passo da che così indichi. Abbiamo... Qua. Abbiamo prosciutto su letto di rucola con un tocco di ketchup. Ok. Poi abbiamo... 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 Graniglia di formaggio. Graniglia di formaggio, sì. Graniglia di formaggio con una scruzzatina di ketchup. E questo verme in malforme cos'è? Questo è un peperone... No, questo si chiama un spaghetto di peperone, anche qui con del ketchup, chiaramente. E poi abbiamo un... Griglia di pomodoro. Ma la griglia l'hai copiata da me? Ti sembra uguale? Scusa. No. No, la tua è fatta a spicchi. Tra mia copiata. Ma è fatta a spicchi la tua. Ma guarda qua. Quindi griglia di pomodorino con ketchup. Ok. E allora, come avete visto, il mio è questo. Mentre il suo è questo. Abbiamo anche la giuria. Ti piace? Posso fare? Com'è fa? Non so. E a mio padre non piace, ma vabbè. Ecco. No, fin giù. Sennò c'è lo spazio. E tesi, dovresti lasciare la testa qui e 16 metri di... Aspetta, faccio così? Ecco. E questo è il risultato. Ora recuperiamo tutto, lo metto in frigo perché... Beh sì, per forza. Non si butta via niente. Nulla. Diteci qua sotto quale cavalletto è preferito. Abbiamo un nome al piatto. Il tuo si chiama? Il mio si chiama... E... 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 Sì? Sì, dai. A color explosion. Quello. Mentre il mio si chiama... Dick explosion. Ma è caduta la cappella! No! Vabbè, comunque è lì che esplode. Infatti, vedo che esplode! Tutto torna! E questo è tutto e... Ciao! Ciao!